Oltre un secolo fa, nel 1901, nacque a Lumezzane, Brescia, la Rubinetterie Bresciane Bonomi, che l'attività imprenditoriale della famiglia Bonomi, tramandata di padre in figlio, avrebbe destinato a un ruolo leader nel suo settore. Agli inizi del Novecento, la Rubinetterie Bresciane Bonomi, dalla produzione di valvole per l'enologia, sviluppa la produzione di rubinetti a maschio conico per l'intercettazione di acqua e gas. E da quell'idea comincerà a misurarsi con le esigenze di un mercato prima nazionale e poi globale. Nel 1967 viene ideata e prodotta la prima valvola sfera in due pezzi, che verrà adottato come standard a livello mondiale. Il punto di partenza è il metallo, il traguardo, la qualità. L'integrazione verticale porta alla sinergia di una fabbrica di stampaggio a caldo e di lavorazione di particolari in ottone attrezzata con macchinari per grandi serie. Oggi sono fra i più moderni impianti attivi. Costanti sono gli investimenti nelle linee produttive. Si utilizzano macchinari ad alto livello di automazione, capaci di combinare tecnologia e qualità. Nascono così le valvole a sfere in ottone, che soddisfano applicazioni e normative dettate dai principali mercati mondiali. La cultura aziendale Bonomi è qualità e si esprime con prodotti capaci di offrire affidabilità e durata, come può garantire solo chi cura la produzione dai più moderni sistemi di progettazione fino al cliente finale. Oltre alla valvola a sfera tradizionale, si realizzano il disconnettore, la valvola di ritegno, il riduttore di pressione, l'Eurofly, l'unica valvola a farfalle in ottone che garantisce impieghi di durata fino a 10 volte superiori alla tradizionale valvola a sfera. La divisione dedicata al mercato industriale può contare sullo sviluppo di una progettualità basata sull'innovazione tecnologica ed è attrezzata per la lavorazione di acciaio, ghisa ed alluminio. Le lavorazioni spaziano dalle più piccole dimensioni usate nei macchinari e nei laboratori fino alle dimensioni più importanti utilizzate negli impianti di processo dell'industria chimica, petrolchimica e nei sistemi di trasporto di gas, acqua e derivati dalla raffinazione del petrolio. Tutti i prodotti sono sottoposti ai collaudi più severi e alle verifiche più selettive. Viene offerta al mercato industriale una gamma di particolari e di prodotti finiti, senza paragoni. Così nascono le valvole a sfera in acciaio inossidabile, in ghisa e in acciaio al carbonio che vengono anche automatizzate con attuatori elettrici e pneumatici, questi ultimi brevettati nella regolazione aperto-chiuso. Improntata agli stessi criteri di eccellenza è la produzione dedicata all'automazione industriale. I sofisticati attuatori pneumatici ed elettrici esprimono i più alti livelli di tecnologia ed automazione. I collaudi verificano le condizioni più estreme. Il Service Center ha già automatizzato centinaia di migliaia di valvole. Si promuove la ricerca per la qualità dei prodotti, ma anche per il rispetto dell'ambiente e la sicurezza delle persone. Il risultato è una qualità che non teme confronti. In questo campo, solo l'eccellenza consente di affrontare la competizione internazionale, una sfida sostenuta dalla passione e dalle energie degli uomini che ricercano, progettano e realizzano prodotti al top della qualità e della tecnologia, un team perfettamente integrato per la totale soddisfazione del cliente. Il Bonomi Group è oggi composto da quattro aziende, Rubinetterie Bresciane, leader nel mercato delle valvole a sfera in ottone, Valpres per le valvole a sfera industriali, Valvia nel settore dell'automazione pneumatica ed elettrica, Universe, integrata e attrezzata per offrire particolari stampati, lavorati o grandi serie di particolari torniti in ottone. I più recenti brevetti I raccordi in ottone a pressare, che con il tubo multistrato si presentano sul mercato con il sistema Turbo, affiancato dalla versione in acciaio inox e al carbonio, la valvola per gas con serratura estraibile e sostituibile, la valvola per gas con blocco di sicurezza. Filiali in Germania, Inghilterra, Spagna, Stati Uniti, Canada e India raggiungono i mercati di oltre 60 paesi, che permetteranno nel 2006 di superare un fatturato di 80 milioni di euro. Il Bonomi Group continua ad espandersi, sviluppando nuove tecnologie e investendo in risorse umane. Il futuro della sfida è raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. Grazie a tutti.